Che cosa c'è da dire su Bugo? Questo è l'emblema, è essere o non essere, quindi Bugo o non Bugo, dove Bugo dove sarà? Sicuramente a Sanremo, nuovamente, ora partendo dal presupposto che per me, insomma, Bugo ha avuto, diciamo, la fortuna di ritrovarsi con un Morgan che lo dissa in live, perché comunque quanti dischi venduti, peccato che appunto c'è stata la pandemia perché altrimenti Bugo avrebbe fatto anche un sacco di live, però c'è da dire che Bugo fa musica da tanti, tanti, tanti anni, diversi contratti universa, non ha mai venduto niente, per carità, però è sempre un artista che c'è stato e fondamentalmente era anche molto amico con Morgan perché Bugo ha un rispetto religioso per la musica che fa e per la musica di qualità, quindi comunque è un artista vero, puro, su questo gli si deve riconoscere, solo che lui è un po' la versione populista e scarna di un Vasco Rossi, se così vogliamo, cioè lui scrive concetti che magari potevano andare bene negli anni 70-80, cioè lui è uno che comunque si ispira molto a un'età i cui testi potevano essere esposti in un certo modo, soprattutto in inglese, non a caso volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, si vede, si vede particolarmente, però si vede anche, come in questo caso, che tu lo senti parlare e ti rendi conto che questo non sa che cazzo deve dire, non sa che dire, non sa che pensare perché non è neanche abituato a questa mole, infatti richiamarlo a Sanremo, secondo me non è che dice stato un errore, perché un errore non lo è mai, però non è un artista che magari meritava quel palco nuovamente, perché da come si racconta, non è che dice ha fatto queste, non è che credo che porterà la canzone dell'anno, cioè secondo me è un buon artista, valido, che ha avuto il suo momento e adesso gli è stata data un'altra opportunità, però se la davi a lui dovevi darla anche a Morgan, questo è il discorso, poi per carità ha fatto il featuring con Ermal Meta, bella canzone, ha fatto un bel disco a Bugo, e lui comunque come artista, io ripeto, lo rispetto e tutto, però non mi entusiasma, quando parla mi rendo conto che è un ragazzo molto limitato, limitato, cioè lui si ispira dei miti da dieci, fa musica però in maniera mediocre, lo rispetti come persona e può fare anche qualche bella canzone perché l'ha fatte, però a fatti concreti resta un mediocre, se gli va bene può andare nel discreto, ecco, però diciamo che più che discreto io la parola giusta è discrezione, quella che appunto lo porta ad essere praticamente assente, cioè tu vedi Bugo, veramente ti chiedi dov'è, perché proprio non ti lascia niente, l'intervista che ha fatto a me proprio non mi ha detto nulla, infatti mi soffermo con che cosa ha detto, che cosa porterà, buh non lo so, sicuramente ci metterà il cuore, però fondamentalmente parliamo anche di un ragazzo dalle capacità tecniche e canore molto limitate, quindi diciamo che le aspettative sono basse, spero mi stupisca. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.